E' stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la prima tappa del campionato italiano di moto d'acqua 2024. Si svolgerà a Napoli dal 3 al 5 maggio nello specchio di mare che lambisce il lungomare Caracciolo fino alla rotonda Diaz. Abbiamo il piacere di organizzare per il secondo anno consecutivo in uno dei posti più belli di Napoli la prima tappa del campionato italiano moto d'acqua che è strutturata. Si parte dal venerdì 3 maggio fino a domenica 5 maggio. Il venerdì ci sarà l'allestimento del campo gara, i vari paddock e ci sarà una nuova iniziativa, la mototerapia, il pomeriggio verso le 16 dove parteciperà un'associazione con ragazzi speciali, precisamente ragazzi autistici che includiamo all'interno del nostro contesto. Circa il 27% dei partecipanti è composto da donne. Noi abbiamo delle ragazze formidabili, abbiamo in questo momento campionesse mondiali in carica. E' l'unico posto Napoli dove si può gareggiare al centro di una grandissima metropoli facendosi guardare da tutti in uno scenario incantevole. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Napoli e fa parte del percorso di eventi che conducono verso Napoli capitale europea dello sport 2026. Lo sport ci insegna la regola, la forza che sprigionano i giovani con lo sport va incanalata in che cosa? Va incanalata nella competizione ma nella sana competizione della regola. E' anche per questo che vogliamo coinvolgere i giovani delle fasce anche disagiate oppure delle famiglie meno agiate e tutto questo lo faremo col contributo delle associazioni impegnate negli sport acquatici. Grazie a tutti! Grazie a tutti!